Bentornati su MyFootballGersey. Oggi vediamo la prima maglia del Boca's Junior per la stagione 22-23. In edizione fan, la maglia pensata per i tifosi. La maglia Adidas Boca's Juniors 2022-23 ha ovviamente la fascia pettorale gialla su una base blu. La maglia ha un colletto pieghevole, una caratteristica che troviamo su molte squadre Adidas del 2022-23. Il colletto è completamente giallo, così come le tre strisce che corrono dal colletto alle spalle. I polsini sono gialli nella sezione esterna. Il soprannome di Boca's Xenize è scritto sotto la parte posteriore del colletto in giallo. La maglia da casa Adidas Boca's Juniors 22-23 ritorna al tradizionale stemma del club. La maglia Boca's Junior sembra fare riferimento in modo simile a un paio di maglie Boca della fine degli anni 80 e dei primi anni 90. La maglia è molto bella. Nella mia classifica questa prende 4 stelle. Mi piace tanto soprattutto perché riporta alla mente la maglia del passato, con questo colore blu scuro veramente meraviglioso. Qui in alto vedete il costo. Molto vantaggioso per una maglia di un'ottima qualità che arriva con dei tempi di spedizione molto veloci. Questa è arrivata in 22 giorni. In descrizione qua sotto trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Andate a vedere sul sito quali splendide maglie vi attendono. Ora vi lascio alla parte finale nella quale vedrete la vestibilità. Nel frattempo lasciateci un like e iscrivetevi al canale. Per oggi è tutto ci vediamo alla prossima. Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione Fan. Grazie a tutti.